Se avessi il mio stesso problema con la Scarlett 2i2 3rd generation con il microfono solo su un'altra parte e la gitarra o il keyboard sull'opposito ho preparato un video per voi perché ho trovato la soluzione e vorrei raccontare a non costo perché usiamo due software gratis e che ti permette di fare un live streaming direttamente con la Scarlett Stereo Ora, vorrei raccontare step by step, questo è per i Mac user Iniziamo con la Scarlett ho comprato i 2i2, il modello che vediamo in questa finestra ho collegato il mio microfono a input 1 e a input 2 ho collegato il mio keyboard il mio problema era questo Quando ho registrato la mia voce ho scelto solo sul canale lefto per il mio canale sembra che Scarlett prende i 2i canali input e li spiega all'altra parte per il canale 1 e all'altra parte per il canale 2 Questo è abbastanza ma ci sono due software gratis che vi mostrerò per farlo Il primo è Soundflower è gratis, è per i Mac ed è un'integrazione integrata per creare un dispositivo audio che può attraversare come input e output Sunflower è gratis, download è solo 33 KB L'altro software, anche per gratis è chiamato Ladiocast clicchiamo sul link lo troverete nel Mac App Store apre il link e lo troverete ho già downloadato e installato questi due, come ho detto sono gratis e è solo 3.5 MB ora siete pronti per il prossimo passo cominciamo con aprire il software Ladiocast che vi mostrerò dall'App Store inoltre ho già installato il microfono ma vi mostrerò come installare l'altro instrument clicchiamo su Scarlett diciamo che il sound card sia una source come vedete sono input 1 e input 2 right now si prende l'input 1 che è il mio microfono anche se non potete ascoltare qualcosa differente perchè non ho iniziato l'output al Master quindi non può mandare l'audio al sound card che va ai suoi non ho iniziato l'AUX che è l'unico che manda il segnale al software Soundflower che manda l'audio al software come Ableton Audition o una trasmissione se ora spiego il mio keyboard in port 2 potremmo iniziare i main e i AUX quindi faccio ascoltare cosa succede l'audio della gitarra o la keyboard in questo caso va solo sul canale direttore come farlo ascoltare a due lezioni il trucco è cliccare su questo e farlo diventare 2 lezioni la mia voce ha desaparegato dal VEU metter ho impostato per lezioni Scarlett prende 2 per lezioni per lezioni e per lezioni per lezioni e questo è quello che succede questo è il final risultato ho fatto esattamente le stesse prima di registrare l'audio sul microfono perché altrimenti potete sentire questo come potete sentire la mia voce è solo sul canale e non sul canale non sul canale non sul canale questo potete ascoltare lezioni se apriamo Upload Upload due lezioni e lezioni per ogni entrata la sua Scarlett potete anche registrare la voce e l'instrumento insieme il video finisce qui spero che tutto sia chiaro e se non scrivi nei commenti grazie per la visione e se avete qualche dubb mi sapete qui ok? un forte hug from Manuele bye bye